Buonasera ragazzi, come da titolo? Vi siete divertiti? Perché questo titolo? Vi ho voluto dimostrare, cari ragazzi, che voi andate ad abbonarvi a certe persone che poi vi fanno vedere che avete vinto l'ambata, si arrabbiano caso mai non avete messo l'ambata perché non sapete giocare, ma queste persone io vi consiglio di lasciarle perché se un professionista che dice di essere un grande lottologo, di avere dei studi chissà come, vi fa vincere solo l'ambata io vi ho dimostrato nel video precedente dove l'hanno visto 922 persone ed è stato messo due giorni fa questo video non è che stiamo parlando di un mese fa, vi ho dimostrato come si fa a centrare l'ambata senza nemmeno abbonarvi non c'è bisogno di abbonarvi per vincere l'ambata o addirittura o l'ambetto già l'ambetto, però lo sapete che io l'ambetto non lo faccio giocare, non ho mai fatto vedere nei miei video vinciti di ambette né vinciti di ambate, quando io metto i miei video faccio vedere o gli ambi secchi o faccio vedere le vincite con le terzine perché logicamente un terno secco è difficile da vincere e allora lì in quel caso mettiamo ambo e terno, ma mettere su un ambo anche l'ambetto significa di non essere capace nemmeno a centrare un ambo secco e poi ripeto, se io devo rischiare 2 euro uno su un ambo e uno su un ambetto io rischio sempre 2 euro sull'ambo secco, almeno se mi esce l'ambo secco mi porto 460 euro in tasca. Detto questo ragazzi andiamo a vedere così vi rinfresco un po' la memoria per chi non si ricorda questo video, c'è ancora il video, non l'ho cancellato, divertiamoci un po', dove vi ho fatto vedere che con questo software Lotto per te spia le ambate sono diciamo la prassi, come vogliamo chiamarla la facilità del giorno di questo software si centrano come giocare a briga, giocare a dama non so nemmeno darvi quel paragone, sono così facile che è difficile trovare anche un paragone di facilità logicamente c'è stata una cliente che mi ha inviato lo scontrino vincente che logicamente no, non farò vedere si chiama Linda, gli dico a Linda, lei perché mi ha scritto signor Rosario, lei è bravo, questa previsione la dava al 100% allora Linda innanzitutto specifico perché poi le persone si rovinano, non ho mai detto che era al 100% la previsione mi raccomando, sono previsione e non certezza, anche le ambate si possono sbagliare però ripeto, una cosa è centrare l'ambo secco che è logicamente molto molto più difficile di un'ambata e un'altra cosa è centrare l'ambata, se la lottomatica ha messo l'ambata 11 volte la posta significa che è più semplice centrarla, su 5 estratti, centrare un numero su quei 5 estratti che escono addirittura se mettiamo 2, sono 10 estratti, è più semplice di centrare un ambo secco su 90 numeri che poi sono tanti, con 90 numeri si fanno tanti ambi secchi, quindi è molto più difficile vi faccio vedere, è stata centrata l'ambata, non abbiamo centrato la posizione perché c'era la posizione 3, la posizione 2 e l'ambata stasera a Milano è uscita in quarta posizione la quarta e la prima come vedete era l'altra posizione che poteva uscire perché era 3 di frequenza e 3 di frequenza ma la più gettonata in frequenza era la terza posizione e in più ritardo era la seconda quindi non l'abbiamo centrata in posizione, però in questo video c'è un'altra ambata andiamola a vedere che ho dato, quindi in un colpo solo c'è entrato 2 ambate e poi ci sono i grandi professionisti che fanno i urlatori, abbiamo vinto l'ambata 1, l'ambata 2, l'ambata 3 ma quale? Eccola qua, guardate, questo qua è l'altra ambata che vi avevo dato, vedete, Bari-Roma sempre con questo software, vedete, Bari-Roma 71, è uscita a Roma in seconda posizione andiamo a vedere anche che posizione davo io, come vedete, davo la terza posizione e la seconda posizione ed è uscita appunto la seconda posizione, il 71 a Roma e adesso c'è l'altra ambata, se andiamo a vedere l'altra ambata, se andate a vedere il video c'è l'ambata il 58 che ancora non è uscito, non mi ricordo le posizioni, però se andate a vedere il video, non mi ricordo se ho dato anche le posizioni vabbè, ok, allora detto questo ragazzi, andiamo a vedere un po', mentre con i miei soft poi nei prossimi video vi farò divertire ancora un po' con le ambate metteremo ancora delle ambate così per farvi divertire, ma non vi illudete che metterò qui nei miei video le vincite delle ambate, perché per me non sono vincite, per voi certamente saranno vincite, ma per me che studio l'otto da 30 anni non è una vincita, per me la vincita si parte dall'ambo secco in poi, ok? Quindi ambo secco, terno secco, eccetera eccetera, ma non dal dall'ambata, l'ambata diciamo è solo una base per trovare gli abbinamenti per ambo secco, ma certamente non è una vincita, se la volete giocare siete liberi di farlo, ma io ho conosciuto persone che si sono rovinate con le ambate, quindi io sconsiglio sempre questo tipo di gioco, perché per portare in tasca qualcosa di consistente, tante persone si rovinano, puntano 50, 100, 200 euro sulle ambate e questo non va assolutamente, è un gioco e non c'è certezza. Ripeto alla signora Linda, mi raccomando, io non ho mai detto che l'ambata la davo al 100%, mi ha scritto che lei ha puntato poco, anche se io la davo al 100%, non ho mai detto, ripeto, vai ad ascoltare il video, non ho mai detto che l'ambata era al 100%, ok? Questo 100% che vedete è la percentuale di presenza, non è che il software mi dà 100% sicuro, non c'è niente al lotto, ok? Salvo equivoci è meglio che lo specifichiamo. Poi eccomi qua ragazzi, il mensi software lotto per te, questi splendidi mensili che continuano a dare vincite. Cosa è successo stasera ragazzi? Con il mensi software di agosto, a tanti di voi che l'hanno, avete avuto anche il messaggio su Whatsapp, chi è in possesso di questo mensi software lotto per te di agosto, avevo detto ragazzi di seguire le previsioni del metodo terno secco e stasera Ambo in terzina 85-29 a Bari, peccato che non è uscito il capogioco, se no stasera avremmo un lato, veramente un lato al terno secco, ma purtroppo stavolta questo mensi software ci ha regalato solo l'Ambo in terzina 85-29. Questo invece ragazzi è il software number one, sempre un mio software che stasera c'entra al primo colpo di gioco il bellissimo Ambo secco 90-11 a Palermo. Questo invece è il software number 30 che ha centrato il bellissimo Ambo in terzina al nono colpo di gioco. Qualcuno dirà è al nono colpo di gioco, ragazzi stiamo parlando di solo tre terzine su due ruote fisse, non stiamo parlando di nazionale, non stiamo parlando di tutti. Se poi volete andare, ripeto, da quelli lì che vi fanno vincere gli ambetti e vi danno quattro ruote, la diametrale, la ruota gemella, poi vi danno sei ruote per vincere un ambetto, andate da loro, a me più di fregarmene di meno non posso dirvi, ok? Passiamo, andiamo avanti, passiamo avanti. Questo è il software 19, Ambo in terzina 34-21 al settimo colpo di gioco. Questo è un'altra vincita con il software quaterna number 1 volume 3, Ambo in terzina 18-71 al terzo colpo di gioco sul Roma, colpo terzo. Bene, ragazzi, potrei continuare all'infinito per farvi vedere che con tanti software, tanti metodi è facilissimo centrare le vincite. Logicamente il problema arriva quando con una sola previsione si deve riuscire a centrare la vincita e non tutti riescono a raggiungere questo obiettivo. qualcuno dirà, ma perché tu ci riesci? Una domanda che non sempre ci riesco ragazzi, perché io ci metto la faccia, non posso dire che ogni previsione che do io va a segno, ma la maggior parte delle mie previsioni danno delle belle soddisfazioni, a volte l'ambo secco, a volte l'ambo in terzina e abbiamo centrato anche il terno secco, ve ne rammento uno che adesso vi farò vedere, un bellissimo terno secco che abbiamo centrato e poi passerò a ricordarvi la grande promozione che c'era, l'offerta lancio. Questi sono gli scontrini che io farò vedere terni secchi, ambi secchi, nel mio canale le ambate, gli ambetti non li vedrete mai, perché poi con l'ambetto tante persone che fanno, fanno gli urlatori, fanno vedere 10-11 scontrini, più di questi non ne ho mai visti, comunque 10-11 scontrini di ambetti per attirarvi logicamente, perché quello, come li chiamo io, gli scontrini attirapulli, basta far vedere due ambetti, la gente si accanisciama, fa vincere l'ambetto, poi inizia a puntarci 10-20 euro sull'ambetto, quando si è, diciamo, ha finito i fondi, poi dopo si incavola con chi gli ha fatto l'abbonamento e poi questo che gli ha fatto l'abbonamento addirittura lo blocca o lo blocca pure, ed è successo perché tanti miei clienti sono venuti da me dicendomi che ero abbonato con questa persona, gli ho detto che non si è vinto niente in questo mese, cosa ha fatto questa persona? Ha bloccato, senza dire che non si è vinto niente, vinceremo il mese, cioè qualcuno poteva pure io non vinco, succedono dei mesi che, può succedere qualche mese che non riesco a vincere, perché non, almeno ripeto, se poi dicono che vincono sempre, vi hanno dato la loro previsione, vi hanno dato 10 metodi e poi dicono che nel gruppo abbonati si è vinto perché hanno vinto col metodo e non con la previsione abbonata, pure io se nel mio gruppo abbonato do 10 metodi e poi do una previsione, se non vinco con la previsione fra quei 10 metodi sicuramente ci sarà la vincita. Quindi ragazzi, vincere con l'abbonamento significa vincere con la previsione che dà la persona, quindi non fatevi illudere quando vi dicono che abbiamo vinto nel gruppo abbonati, vi devono far vincere con la previsione che vi danno, non vi devono far vincere con 10 metodi che vi danno nel gruppo abbonati, vi devono far vincere con la previsione che vi hanno dato quel mese. Se io questo mese vi do il terno 1,2,3 io devo vincere con quel terno 1,2,3 devo vincere o l'ambo in tessina o il terno secco, non è che ti do la previsione 1,2,3 e poi ti do altri 10 metodi, dico scegli tu il metodo, poi se tu scegli il metodo giusto che ha vinto poi mi dirai ha vinto nel gruppo abbonati eccetera, no non funziona così. Beh ragazzi, io forse mi sono prolungato un po' troppo, vi ricordo l'ultima cosa, vi ricordo che ormai mancano pochi giorni per poter acquistare l'otto per te, io vi consiglio di non perderlo, poi se volete ripete, andare da solo o cambiare, chi vi fa l'abbonamento o vi dà il giornale, cambiate pure, nessun problema, io sono sicuro di quello che do e se il mese scorso ho fatto vincere l'ambo secco con il mio metodo presente sull'otto per te, questo mese minimo, 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 ripeto, proverò a farvi centrare l'ambo secco, ma l'obiettivo mio lo sapete ormai tutti, ormai chi mi conosce da anni sa che il mio obiettivo è il terno secco come quello che vi ho fatto vedere, quello scontrino che vi ho fatto vedere, quindi chi vuole darmi fiducia mi acquista questo mensi software l'otto per te, ricordo il costo erisorio di 10 euro fino al 30 novembre, dopodiché non lo potrò dare più a 10 euro, quindi affrettate, non venitemi al 5 dicembre e chiedermi l'otto per te di dicembre a 10 euro perché non ve lo darò più, ok? Detto questo ragazzi, nei prossimi giorni vi farò divertire ancora un po' con le ambate, così vi divertite, ma mi raccomando non mandatemi gli scontrini, non li mandate, perché tanto sì mi fanno piacere a me, ma certamente se mi mandate gli scontrini per farli vedere sul mio canale YouTube io non li farò vedere, non farò l'urlatore che urla abbiamo vinto quante, abbiamo vinto tante persone con l'ambata, no non lo farò vedere mai, nemmeno l'ambo secco a tutte eccetera eccetera, non mi metto a far vedere le caramelle ragazzi, io devo far vedere il caviale e lo champagne, quando iniziamo a vedere dall'ambo secco in poi allora noi facciamo vedere gli scontrini e logicamente facciamo vedere quando faccio vedere le terzine perché farvi capire che siamo andati vicino al terno eccetera, oppure faccio vedere che il nostro gioco era quello, ambo etterno, poi è uscito l'ambo in terzina, logicamente in quel caso faccio vedere gli scontrini, ragazzi io con questo ho finito, spero di non avervi annoiato, nei prossimi video vi darò le ambate, vi farò divertire ancora un po' per gli amanti delle ambate, ok? Buona serata a tutti e buone vincite sempre con Rosario Gallo e con PrevisioniVincenti.it